Colpiscono migliaia di persone in Italia, in molti casi si fa fatica a riconoscerle ed è ancora più complicato combatterle. Parliamo delle malattie rare, un fenomeno diffuso ma troppe volte dimenticato. Per far luce sul tema, l'associazione di volontariato Rete Malattie Rare ha organizzato due eventi a Bari, appuntamento per venerdì 31 maggio alle ore 19.30 all'Anche Cinema con lo spettacolo La Donna del Fuoco, Marietta Barovie, pioniera delle perle veneziane, che parla della prima donna imprenditrice nella storia del vetro. A seguire ci sarà la presentazione del secondo concorso nazionale di racconti e poesie sulle malattie rare. Tanto è stato fatto ma tanto c'è ancora da fare sul tema per la consapevolezza e la conoscenza delle malattie rare. Noi siamo qui oggi però per dare appuntamento in Puglia e alla città di Bari per un evento culturale che avvicini le persone alla conoscenza in maniera però metaforica e leggera alle malattie rare. Ritengo due belli appuntamenti a cui le persone possano essere interessate e piacevolmente avvicinate a questa tematica. Sono circa 600.000 le persone affette da malattie rare in Italia, in Puglia sono circa 27.000 quelle censite, un quarto sono bambini e adolescenti. Le malattie rare sono tante, si parla di più di 7.000 entità nosologiche e tante altre se ne stanno scoprendo. Da un punto di vista di censimento, in base all'ultimo rapporto monitorare dell'anno scorso, del luglio 2023, di Uniamo, la stima fatta attraverso i flussi informativi e registri di malattie rare a livello italiano è quella di più di 600.000 persone colpite, censite. Grazie.